Tu prendi l'uova, ci fai così, se sono fresche le prendi, se no desiste, quindi se non avete uva di qualità, desistete, desistete, zabaione, zabaione a cucchiaio, marsala, rosso d'uovo, zucchero e marsala. Uva di qualità, tantissimi auguri Presidente Biagio Ferrandello, buon compreanno, e le sue uova sono veramente internazionali. Auguri Presidente, tu pigli l'uovo, ci fai così, se sono fresche le prendi, se no desiste. Buona giornata e tanti tanti auguri carissimo Presidente, un grande bacio, bacio, un grande bacio. Ciao Presidente. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buon venerdì. E niente, stamattina ho fatto questi hamburger, sono con dei semi di papavero, alcuni sono con dei semi di cumino, alcuni li ho fatti con il classico semi di sesamo. E poi ho fatto queste girelle sempre dello stesso impasto, dello stesso, guardate che bella morbidezza. E ci ho messo una fettina di primosale, diciamo formaggio bianco, semplice semplice, solo e esclusivamente per vedere come si comporta il pane, il panino. Questo è un pan brioche, un panino diciamo, non chiamiamolo pan brioche, questo è un panino adatto per fare gli hamburger. Adesso vediamo se va bene questo qua, come come? ragazzi internazionale, vi auguro buona giornata a tutti, io ne approfitto di fare questo piccolo pranzo e vi auguro una buona giornata a tutti quanti voi. Ciao ciao da Baldassare Scilla. Ome ome internazionale ragazzi, internazionale veramente. Ciao!